Dance Corner di Trinacri and Dance e qui respiriamo anche un po' di aria internazionale con Piero Ferlito e con la moglie Dakin Ishida direttamente da Catania insomma c'è un connubio speciale tra Catania e l'Estremo Oriente Sì, mia moglie è giapponese e poi penso che il connubio speciale è con la Sicilia la Sicilia essendo un'isola quindi è il Giappone dell'Ovest secondo me Che emozione è essere qui a confrontarsi con oltre 20 scuole da tutta la Sicilia? È una grande emozione speriamo di portare il nostro umile contributo alla città di Gela a cui tengo particolarmente perché abbiamo anche un'allieva di Gela In una sola parola cos'è per te la danza? La vita